Con oggi il governo mette una pietra tombale sopra la sperimentazione voluta da Maroni denominata opzione donna. Quindi non ci sarà nessuna proroga e tutti i comitati, tutte le donne che speravano una prosecuzione al 2018 di questa sperimentazione sono state tradite dal governo Renzi. Con oggi non si fa che applicare semplicemente quello che era già previsto dalla legge Maroni e cioè che tutte le donne entro il 31-12-2015 che maturavano appunto 57-58 anni di età e 35 anni di contributi potevano andare in pensione e maturare il diritto. Hanno fatto penare un anno queste donne per la burocrazia dell'Inps, per la burocrazia del governo senza utilizzare i fondi per la prosecuzione e oggi dopo un anno di attesa ci dicono che nulla sarà continuato. Una vera beffa per le donne italiane, una vera beffa per tutti coloro che credevano in questo governo. Noi continuiamo invece a battagliare con emendamenti per ottenere la proroga del 2018 di opzione donna che è una sperimentazione che ha dato la possibilità a migliaia di donne di poter andare in pensione senza quella vergognosa legge Fornero che anche quella sarà oggetto di nostra battaglia.